Giordano Santoro Compossibili Compossibili mostra come la luce non sia dipendente da una sorgente luminosa altera. Ogni oggetto può, nelle condizioni ottimali, divenire fonte in grado di illuminare gli altri. Gli oggetti nell'opera di Giordano Santoro hanno la sola caratteristica di poter splendere se lo fanno insieme, senza intervalli di vuoto. La luce è simultaneità. Grazie a tutti.